Problemi sulla piattaforma di Facebook in queste ore. Tantissime segnalazioni sono giunte al quartier generale del social network sia da Napoli che da Milano e Roma Sono centinaia ormai gli utenti che stanno segnalando problemi di accesso. Le maggiori criticità appare che si riscontrino, quando si prova ad accedere al sito tramite l'apposita applicazione degli smartphone Secondo quanto si apprende, i problemi non riguarderebbero solo l'Italia, ma anche in Inghilterra, Germania, Olanda e Francia si starebbero riscontrando le stesse criticità Grazie